Allora, io direi che siamo pronti per cominciare la nostra festa. Iniziamo con un grande numero di atlete in rappresentanza delle tre squadre senior della Nazagin. Vedremo le Senior Gold della ginnastica artistica, le Wave Senior del cheer dance e le Flames Senior del cheerleading, insieme ovviamente a tutto lo staff tecnico. Queste sono le atlete che praticano questo sport da più tempo, sono qui con noi tante da quando erano veramente piccolissime, 3-4 anni. Alcune di loro sono già all'università, che frequenta le scuole superiori, quindi fanno parte della Nazza Femmini praticamente da sempre. Tutte insieme ci porteranno in pedana la magia del Natale, ovviamente a modo loro, tra musica, acrobazie ed evoluzioni. Diamo il benvenuto ai gruppi senior. Femmini Femmini Grazie a tutti 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 Grazie a tutti